Qui vi presentiamo le 5 migliori telecomandi universali. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Telecomando universale per TV LCD Samsung LED 3D. Questo è un dispositivo creato in particolare dalla Smart TV Samsung. Sostituisce direttamente il telecomando iniziale senza chiamare alcun codice di installazione. Basta inserire le batterie ed è anche pronto per entrare in funzione. I tasti morbidi e la costruzione robusta lo rendono perfetto per tutti i membri della famiglia. Passando al numero 4. Melikomi Control 2 Digital Telecomando universale 2 in 1. Si tratta di un controllo a pulsante globale per cambiare così come i telecomandi del Team 2 da scegliere tra quelli della TV e del decoder terrestre o satellitare, Sky barra Mediator. Ha un database specificamente totale e anche costantemente aggiornato, che garantisce un'altissima compatibilità e anche la possibilità di ottenere tutte le funzionalità esistenti sull'originale. Non perdere mai la configurazione del codice quando si sostituiscono le BAP per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. One for all simple 4URG 6440 Telecomando universale Controlla TV Il suo layout ergonomico e la comodità d'uso lo rendono un design eccellente per tutta la famiglia. Funziona con televisori HD, LCD, plasma e anche proiettori, fino a 4 gadget grazie alla finitura in gomma e è estremamente resistente agli urti. Viene creato con un sistema di retroilluminazione con attivazione del sensore di distanza. I trucchi diventano ambra mentre ti avvicini e anche prima di toccarli. Almostat è top of our list at number 2. Logitech Armoni 350 Telecomando universale per Sky. Di base per la configurazione e anche l'uso, ha uno schermo ombreggiato per mostrare i simboli dei tuoi canali preferiti e i comandi necessari per regolare i gadget in funzione. L'accesso all'attività onetaccia ai tasti consente di attivare automaticamente gli strumenti migliori e selezionare le impostazioni corrette per l'esecuzione dell'attività. Questo design sostituisce 5 diversi telecomandi e sostiene anche oltre 5.000 marchi e 225.000 strumenti, per rendere certa procedura sia con gli attuali dispositivi di godimento della residenza che con quelli che verranno acquistati in fuoco. E infine il numero 1 della nostra lista. Logitech Telecomando Armoni Touch. Si tratta di un sofisticato controllo universale del pulsante con un display Touch Shades VPN Tab che consente di controllare da remoto fino a 15 dispositivi del sistema di godimento della casa. È realizzato con un tocco innovativo e una capacità di scorrimento dritto con un movimento di base. Puoi accedere alle tue attività preferite, come TV e giochi per computer. Ci sono 50 simboli per le tue reti preferite. È ricaricabile con il terminale di ricarico. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.